Sì, siamo una certa migliaia, a tutti in Italia, come leggiamo, oggi a Colonia ci ritroviamo. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa, invece la prima. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. 1,2,3,2,3,2. E' un'altra cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.